Cazzullo, per la verità Trenitalia ha detto che è stata una fermata straordinaria e che al ricorrere di casi straordinari Trenitalia realizza abitualmente ed è fruibile per tutti i passeggeri. Io pare che siano scesi solo il ministro Lollobrigi dai due del suo staff. C'è quindi un problema o no? Perché se no non si riesce mica tanto a capire. Siamo noi che capiamo male che un uomo o donna di potere non dovrebbe abusare di questo potere? Il problema c'è lì intanto perché esprimo la mia delusione. Io avevo capito che con il nuovo governo i treni sarebbero arrivati in orario come dall'antica tradizione politica. Quindi questo un po' mi dispiace. E poi vedi in effetti la cosa che più mi ha colpito di questa vicenda è proprio il comunicato di Trenitalia che dice in sostanza ma che problema c'è? Lo facciamo sempre. L'abbiamo fatto 207 volte in sei mesi. E questo vuol dire da una parte che i treni purtroppo non sono sempre in orario ma io non me ne sono mai accorto. Io neanche. Ho viaggiato molto spesso su Frecciarossa in drammatico ritardo, anche su Italo in ritardo, anche perché ci sono dei problemi di linea. Ma non ho mai saputo, non ho mai visto. Credo che nessuno sarebbe mai neanche venuto in mente di chiedere al Capotreno vada io ho fretta, mi faccia scendere. Sai perché Trenitalia ha fatto questo comunicato? Che ho trovato imbarazzante onestamente. Perché il governo è ancora forte. Il governo è ancora forte perché la posizione debole è divisa, perché le europee non andranno male per Giorgia Meloni perché si è capito che Salvini non è il cavallo vincente. Per Lusconi è morto, i voti di destra a lei andranno. Però poi i nodi dell'economia verranno al pettine e la situazione economica non è buona. I governi non cadono su queste cose che secondo me è talmente bassa la temperatura morale del paese e non spostano un voto. Però poi quando l'economia si mette male, allora tutte queste cose insieme, ce lo siamo già dette l'altra volta, a proposito dell'ambasciatore del Catonga, del caso Gian Bruno, di Leonardo Apash, ecco tutte queste cose, adesso mettiamoci anche la fermata straordinaria a Ciampino, poi alla fine si ritorgono contro chi le ha fatte. Sei d'accordo?